E ancora Alcamo, l'amministrazione Surdi ha prorogato ulteriormente l'avviso per accedere ai contributi per l'abbattimento della scadenza taria al 2 novembre 2021. La proroga agevolerebbe l'utenza e consentirebbe a quante più persone di fruire di contributi previsti dal decreto legge sostegni bis a favore di colori quali nell'attuale situazione di emergenza sanitaria ed economica si trovano in difficoltà finanziarie. A tal proposito abbiamo sentito ai nostri microfoni il sindaco di Alcamo, Domenico Surdi. C'è un'importante novità, abbiamo prorogato un avviso fino al 2 novembre per accedere ai contributi per le famiglie. Abbiamo una somma importante che va distribuita tra i cittadini che hanno subito delle difficoltà, quindi hanno avuto maggiori spese o minori entrate a causa del Covid. E pertanto invito tutta la cittadinanza a partecipare. C'è un modulo da compilare facilmente reperibile sul nostro sito. Chiaramente si farà una graduatoria in virtù e in funzione dell'Isee che va legato e tra i documenti che vanno legati. Ma invito tutti comunque a prenderne visione e a partecipare perché ci sono circa 600 mila euro che il Comune ha a disposizione proprio per aiutare chi è entrato in difficoltà. Un'altra cosa importante è che siamo sul fine dell'anno e quindi arriveranno la seconda e la terza rata. Non vi preoccupate per chi ha già pagato eventualmente la seconda rata che nei mesi scorsi era partita e arrivata nelle case perché sarà tutto conguagliato, tutto esposto in bolletta, quindi ci sarà il conteggio fatto in maniera precisa. Per qualsiasi difficoltà, chi vuole dei chiarimenti, basta recarsi al Palazzo di Vetro e parlare con i funzionari responsabili. In un anno così difficile in cui il Comune, grazie anche ai contributi che sono arrivati da Regione e Governo, ha a disposizione delle somme importanti che non devono andare disperse. Quindi ancora una volta invito tutti a prendere visione, eventualmente informarsi non solo con gli sportelli comunali, ma con tutte le agenzie, CAF, coloro i quali in questo senso possono dare una mano perché c'è un'opportunità importante e ripeto, per chi ha avuto più perdite, per chi ha avuto delle perdite o delle migliori entrate a causa di questo Covid che speriamo ci lasci prima possibile. Non dimentichiamo che il termine è il 2 novembre, quindi entro il 2 novembre va compilato e depositato al Comune il protocollo, questo tra l'altro molto facile modulo.